ok è giunto il momento di togliere me l'aria quelli della caccia e millefiori speriamo qualcosa dovrebbe esserci a dopo ma di là è non io penso che scimbo ecco qua il millefiori la caccia l'abbiamo fatto prima per ora abbiamo finito stanno distante anche le galine o non si avvicinano